Tu, tu, I don't know what to do Hello hello bonitosi! Nel video di oggi vi ho portato il mio rituale di bellezza solo con prodotti I love Riccio che sono prodotti creati specialmente per i nostri ricci e se ti piace questa tipologia di video fammi sapere lasciando qua sotto il tuo like e condividendo questo video sui tuoi social e come primo step utilizzo il Washing Go che è una crema co-wash che deterge e idrata i capelli e dopodiché parto con il secondo step che è la Curl Switch che è una maschera di azione profonda che idrata, nutre e definisce i capelli la applico con cura sulle mie lunghezze avendo l'attenzione di massaggiarla bene su tutti i miei capelli quindi la applico e raccolgo i capelli con un chignon basso la lascerò in posa per qualche minuto e dopo aver risciacquato applico il Delicious Curl che è una mousse per i capelli ricci che lascia i capelli leggeri ed elastici nutre, idrata e non ha effetto bagnato e tutto questo perché non è una mousse qualsiasi ma è una crema in consistenza mousse e questa la applico principalmente vicino alle radici per dare più volume alla mia chioma e per continuare il terzo step vengo con la mia preferita che è la Rock'n'Go Styling Cream una crema che idrata e dona elasticità ai capelli lasciandoli definiti e molto luminosi e divido i capelli a sezioni e applico una nocciolina di prodotto dopodiché faccio una fittaggine con la spazzola che lascerà i miei capelli ancora più definiti e faccio questa procedura per tutta la testa Ciao! 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 Dopodiché a testa in giù applico un po' di più sulle punte per dare più definizione E shaker, shaker, shaker da una parte e dall'altra per sciogliere di più le radici e donare volume ai capelli E questo è il risultato finale Io spero che vi sia piaciuto Se vi è piaciuto lasciate i vostri like Iscrivetevi sul canale se non l'avete ancora fatto Seguitemi anche sui social E se volete altre informazioni lascerò i link dei prodotti nell'info box E noi ci vediamo nel prossimo video Ciao!